L'operazione Non Solo Pane, che si è svolta nella notte di oggi, ha posto fine a una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, in particolare in maniera di cocaina, che era stata perpetrata dai responsabili nella città metropolitana di Catania, nonché nei paesi etnei di tre mestieri, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Valverde, Gravina e Mascaruccia. I nove soggetti tratti in arresto nella notte di oggi sono tutti indiziati per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti in maniera reiterata e in concorso tra loro. Di questi, otto sono stati portati presso la casa circondariale, mentre uno è stato posto agli arresti domiciliari. L'attività di indagine che si è svolta tra il marzo e il giugno del 2023 ha permesso di ricostruire quelle che erano le modalità con le quali questi pusher utilizzavano cedere la cocaina. In particolare, per lo più, si trattava di una modalità itinerante. Infatti, dopo una veloce conversazione telefonica, dove il cliente chiedeva la disponibilità della sostanza stupefacente, si davano un appuntamento con l'acquirente in maniera tale da incontrarsi velocemente in un posto che non destasse sospetti. Avveniva questa veloce cessione, dopodiché i due proseguivano ognuno per la propria strada. Tra gli spacciatori vi era altresì chi, per una maggiore sicurezza ed evitare di destare anche il minimo sospetto negli inquirenti, utilizzava dare un punto all'acquirente nel quale far recapitare la sostanza stupefacente richiesta. In questa maniera non vi era neanche materialmente l'incontro tra il pusher e l'acquirente, il quale, dopo il messaggio di avvenuta consegna, andava tranquillamente a prendere, ritirare, il pacco contenente ovviamente la sostanza illecita. Tra i nove indagati vi è anche un panettiere, il quale utilizzava la sua attività di panificio per coprire quella che era in realtà l'attività illecita di spacciatore di cocaina. Tra i suoi clienti infatti vi era qualcuno che era ben conscio della sua attività di pusher e quindi, chiamandolo e assicurandosi che ci fosse disponibilità della cocaina, chiedeva in maniera criptica mezzo chilo di pane o mezza pagnotta, ovviamente riferendosi in realtà a quella che era la quantità di sostanza stupefacente che richiedeva. Dopodiché, recatosi presso il panificio, in mezzo agli altri clienti, riceveva quella che era la sostanza stupefacente richiesta, ma altresì anche pane in maniera tale da poter uscire dall'attività commerciale e non destare sospetto.